Tutto pronto, parte Bianchi, rete, Bianchi ha portato in vantaggio la Lazio In verticale per Rocchi, due su di lui, gira in aria, Lazio in vantaggio con Bianchi Palla recuperata da Mutarelli, Rolando Bianchi, zona tiro! Rolando Bianchi incastona una perla Maniera meravigliosa, guarda, l'ha fatta correre, l'ha stoppata, ha calciato rapidamente l'ha messa Palli verticale per Emauri che è partito bene, di testa l'appoggio, Bianchi esce Buffon, Bianchi e lo corre in rete!